Domenica alle 16.30 Limolese è impegnata al Romeo-Menti di Vicenza per dimenticare la trasferta negativa di Monza. In Coppa Italia di Serie C, Rosso-Blu sono infatti stati sconfitti piuttosto malamente dai Brianzoli col punteggio di 1-0, in una prestazione sotto gli standard sfoderata dagli uomini di mister Alessio Dionisi. Mi dispiace essere usciti, era una competizione a cui tenevamo e comunque contro una squadra di livello sicuramente potevamo fare meglio, fare qualcosa in più, però anche questa partita deve servirci nel nostro percorso di crescita. In campionato i Rosso-Blu soggiorano al quarto posto in compagnia con il Sud Tirol, dietro a corazzate come Pordenone, Tirestina e Feralpi Salò. Secondo me l'importante è riuscire a fare sempre prestazione, poi a volte quando riesci a fare prestazione è più facile che il risultato venga di conseguenza. Però sì, insomma, il nostro percorso stiamo cercando di portarlo il più avanti possibile e vogliamo cercare di insistere. Ora di fronte c'è un'altra nobile decaduta, il Vicenza. Vicenza è una squadra forte, molto forte, a gennaio si è rinforzata ancora, è una società importante, però viene da un momento magari in campionato di un pochino di difficoltà e quindi questo cambio, di solito il cambio d'allenatore, è da sempre una scorsa e dovremmo essere bravi comunque noi a cercare di andare a Vicenza provando a fare la nostra partita e cercando di fare il nostro gioco, portando a casa il massimo di risultato. Grazie a tutti.